Ma senti un po', di cosa fa la sua pubblicità? Corsi d'inglese, milk, coffee, flower. Un'infarinatura d'inglese non basta più. Oggi il vostro inglese deve fare un passo avanti. Ma lo sai com'è l'inglese, no? Per questo l'Espresso vi regala Top English, il corso Zanichelli d'inglese di livello avanzato che comincia dove gli altri corsi finiscono. Un successo straordinario. A grande richiesta è in edicola la ristampa dell'Espresso con il primo fascicolo.